La valutazione psicologica dell'aspetto facciale risulta essere di fondamentale importanza. Di solito gli psicologi usano fotografie frontali nella valutazione dell'aspetto del volto. Linee verticali orizzontali vengono disegnate lungo i tratti somatici. Questo schema è stato impiegato per suggerire specifiche regole dell'ideale proporzione facciale che include appunto anche la famosa sezione aurea. E' noto che più un volto è lungo e verticale più i suoi difetti tendono ad estrinsecarsi maggiormente. I cambiamenti del profilo descritti nel paragrafo diciamo precedente si vedono difficilmente se diciamo osserviamo un volto di fronte. Luker e Grabber già nel 1980 suggerivano agli psicologi di rifarsi anche alla visione laterale e così i chirurghi hanno iniziato proprio a rifarsi a questo tipo di visione dei volti perché essa permette all'immagine di essere appunto ruotata. Le foto frontali infatti non sono congrue per valutare la bellezza facciale specialmente se poi il soggetto sorride perché questo va a distorcere i contorni facciali. Gli psicologi con l'aiuto di software stanno valutando immagini tridimensionali che si possono ruotare per dare delle prospettive migliori delle ossa con i tessuti molli. Tant'è che poi dal volto è possibile anche leggere la personalità. In questo tema però della lettura della personalità attraverso i tratti somatici del volto c'è ancora poco supporto scientifico nel senso che la ricerca è carente. Cunningham però nel 1977 suggerì che la pseudoscienza della frenologia e della fisiognomica può aver reso poco credibile la misurazione del viso per alcuni scienziati e questo quindi ha screditato il concetto della valutazione della personalità attraverso il volto. Squires e Mu nel 1981 hanno trovato rapporti tra i tratti somatici e la personalità. Hanno visto infatti che le persone con una crescita del volto in senso verticale tendono a essere meno convenzionali di quelli con crescita orizzontale. Un tono muscolare ridotto è associato alla crescita verticale del volto. Le persone non convenzionali hanno un tono muscolare più rilassato rispetto a quelle convenzionali. Perret poi in uno studio recente ha constatato che una delle caratteristiche maggiormente associate a volti attraenti sono proprio gli zigomi pronunciati. Questo tratto somatico è proprio tipico della crescita diciamo orizzontale del volto quindi un mascellare superiore più proiettato in avanti risulta essere anche più attraente. Spesso alcuni standard di bellezza vengono presi random in maniera non corretta tra la popolazione. Alcuni ritengono infatti che i denti affollati siano segno di bellezza. Interpretare il volto dovrebbe essere uno degli aspetti più importanti anche in ambito ortodontico. È importante infatti su un paziente dedicare tempo a sufficienza anche allo studio dell'anatomia superficiale. È possibile prima che il paziente apra la bocca già comprendere soltanto guardando il suo volto che tipo di malocclusione ha. Per esempio in maniera molto pratica se il paziente ha un volto stretto e lungo probabilmente in bocca ci aspetteremo di trovarci un palato a contratto per esempio. Questo perché anche i muscoli determinano la posizione delle ossa e dei denti. Importante anche valutare il tipo di deglutizione del paziente, la sua fonazione e la sua masticazione.